Oggi i cinesi hanno individuato su quale unità puntare e le stanno costruendo in massa. Considerate che dal punto di vista numerico la flotta cinese è sicuramente la più estesa al mondo, quindi numericamente è già oggi superiore a quella americana. È dal 2014 a oggi che i cinesi sono in grado da soli di costruire più navi di quante non facciano assieme giapponesi, indiani e sudcoreani. Questo vi dà un'idea della capacità produttiva cinese e di quanto gli equilibri si stiano modificando. In realtà questa flotta numericamente tanto estesa è incentrata su unità piuttosto piccole, quindi unità pensate in primo luogo per operare nei mari vicini alla Cina stessa. Quindi non sono navi pensate per contestare il dominio globale dei mari agli Stati Uniti, ma sono navi pensate in primo luogo per avanzare le rivendicazioni cinesi nei mari vicini alla Cina stessa. Inoltre la Cina è in ritardo sotto il profilo delle capacità rispetto a quella che è la flotta americana e i cinesi non hanno esperienza bellica e quindi fanno grandissimo affidamento sulle esercitazioni con le marine straniere, in particolar modo con i russi, ma i russi, lo sappiamo, non sono certo una potenza dei mari degna di grandissimo rispetto per quanto abbiano delle importanti capacità. E inoltre i cinesi puntano tanto sulle operazioni antipirateria. Giorgio prima ha citato Djibouti, la prima base militare cinese all'estero, sita nel corno d'Africa, importantissima perché permette agli equipaggi cinesi di sostanzialmente rifocillarsi e alle navi di essere revisionate durante queste operazioni antipirateria che, pensate, proseguono ininterrotte dal 2008 a oggi. Giusto ieri è partita la 31esima task force navale cinese alla volta del corno d'Africa. I cinesi in questo modo sono stati in grado di addestrare più o meno compiutamente qualcosa come 26.000 marinai. 26.000 marinai sono circa il 10% della marina cinese. Ripeto, la priorità, per quanto i cinesi comunque stiano cominciando ad affacciarsi in mari distanti, corno d'Africa, cione indiano e in prospettiva anche il Mediterraneo e fino anche al Mar Baltico, non bisogna lasciarsi ingannare da questi sviluppi in quanto la priorità della flotta cinese e della Cina in quanto paese a vocazione marittima, è quella di mettere in sicurezza questo fianco marittimo da cui per tantissimo tempo nella storia della Repubblica Popolare sono giunti i pericoli.